gli air 2 di xiaomi sono delle cuffiette wireless molto simili agli airpods di apple ipods di honor ma costano ben un terzo per due sono degli auricolari semi in ea quindi vuol dire che si poggiano sull'orecchio ma non penetrano completamente punto dentro l'orecchio quindi in teoria sono più comode dei normali auricolari in air hanno un design molto simile ai primi airpods e di conseguenza sono anche molto simili ai flypods realizzati da honor i air 2 hanno una custodia di ricarica molto simile a quella dei dei airpods di apple si ricaricano attraverso un cavetto usb c all'interno della confezione viene fornito un cavetto da usb usb c proprio per renderti facile la ricarica comunque potresti utilizzare anche un caricatore di un di un cellulare di uno smartphone hanno la custodia sulla parte laterale a un piccolo tasto che serve per fare il pairing quindi per la connessione bluetooth poi c'è un led sulla parte frontale che ti permette di controllare quanto sono in carica e anche quanto viene effettuato sempre l'accoppiamento con il dispositivo il design e semi in e quindi è molto simile a quello sia dei free buds di huawei sia agli airpods di apple quindi un design già rodato questa tipologia di design io l'apprezzo molto perché permette di indossare gli auricolari e non sentirli quasi per nulla quindi sono molto confortevoli quando li intossi sono molto leggeri non danno fastidio e non hai quella sensazione di qualcosa che ti penetra nell'orecchio e che ti isola completamente dall'ambiente esterno questo secondo me è molto vantaggioso perché rende l'ascolto molto più rilassante molto più riposante sinceramente io personalmente non amo tanto gli auricolari in ear che ti entrano completamente nell'orecchio e quindi se sei alla guida di un'auto va in pc e indossi gli auricolari in ear isolandoti completamente dall'esterno non ti permettono neanche di ascoltare il crack sono qualche avviso e quindi sono abbastanza pericolosi invece questi comunque ti permettono di percepire anche l'ambiente esterno e quindi sono molto più sicuri a questo punto di vista il fatto di però essere semi in ear allora non isolandoti completamente dall'esterno se devi ascoltare la musica è normale che quando ti trovi in ambienti aperti allora potresti comunque avere dei disturbi mentre quando ascolti la musica in ambienti chiusi senza nessun disturbo allora sono davvero fenomenali sull'auricolare presente anche un piccolo sensore ottico infrarossi che in pratica permette all'auricolare di capire quando è indossato e quando viene rimosso dall'orecchio quindi quando tu lo rimuovi dall'orecchio la riproduzione viene messa in pausa automaticamente questo è un sistema molto comodo utilizzato anche da altri produttori ieri due hanno anche un'applicazione la mi hai questa applicazione però è tutto in cinese e la si può scaricare solo attraverso il qr code che puoi visualizzare su questo video ora questa applicazione mi hai è tutto in cinese perché ieri due ancora non sono ufficialmente distribuiti da xiaomi in italia e quindi li puoi acquistare da un rivenditore parallelo e quindi utilizzarli normalmente come se fossero degli auricolari bluetooth però attraverso questa applicazione puoi comunque svolgere alcune cose che normalmente comunque non potresti fare ad esempio puoi aggiornare il firmware inoltre pur essendo tutto in cinese ti permette di personalizzare i comandi tattili puoi personalizzare i comandi tattili toccando la prima voce in alto vedi qui si apre un pannello da dove è possibile scegliere come utilizzare il doppio tocco sull'auricolare destro quindi la parte sopra e sull'auricolare sinistro la parte sotto ora per impostazione predefinita è selezionata la terza voce la terza voce è quella che ti permette di utilizzare il doppio tocco per avviare interrompere la riproduzione durante l'ascolto dei brani mentre l'auricolare sinistra impostato sull'ultima voce l'ultima voce pure senticene se ti dico io che è quella impostata per l'avvio del dell'assistente vocale quindi se hai per esempio android potrai avviare l'assistente di google e quindi chiedergli quello che ti serve le altre due voci in alto invece se selezionano delle voci in alto ti permettono di utilizzare doppio tocco per passare al brano successivo o al brano precedente quindi se anche non dovessi capire cosa vogliono dire le varie voci potresti fare dei tentativi e quindi renderti conto a che cosa servono le varie impostazioni la qualità audio è davvero notevole io li ho provati sia con musica classica che musica pop musica metal insomma lavorati con un po di generi musicali e devo dire che sono rimasto favorevolmente colpito il volume è molto alto quindi sono molto potenti e l'audio non distorce neanche quando metto il volume al massimo l'audio risulta sempre pulito il suono è molto ricco e si sentono anche i bassi con una buona qualità quindi da questo punto di vista li ho apprezzati molto considerato che si tratta di auricolari che costano poco più di 50 euro devo dire che sono davvero soddisfatto non sono sicuramente la classica coppia cinese di qualche azienda sconosciuta ma sono di auricolari comunque di buona qualità realizzati da un produttore che ha fermato nel mondo mobile come ex home quindi acquistando questi auricolari sei sicuro di portarti a casa comunque un prodotto di qualità sono inoltre dotati di un doppio microfono con sistema nc che riduce i rumori di fondo quindi per migliorare la conversazione quando sei in giro e anche questo ho potuto verificarlo che funziona abbastanza bene quindi ho potuto comunque conversare senza alcun problema in quando mi sono trovato in passeggio fuori all'aperto le altre persone mi hanno sentito in modo abbastanza agevole senza nessun disturbo particolare la batteria degli auricolari una volta che sono caricati completamente dura circa quattro ore in ascolto per la ricarica occorre solo un'ora e la basetta questa qui è la custodia di ricarica consente di estendere l'autonomia fino a quattordici ore quindi in pratica con una carica completa tra auricolari e custodia ai 14 ore di ascolto non hanno la ricarica wireless ma è una cosa che io sinceramente utilizzato 1 2 volte giusto perché me la sono trovata sugli auricolari ma poi ho trovato sempre molto più comodo caricarli col cavetto usb perché di solito uno si trova a caricare gli auricolari quanto è in giri in viaggio ma difficilmente in giri in viaggio ti porterai dietro un caricatore wireless quasi sempre utilizzerà il cavetto del del tuo telefonino è un acquisto che consiglio sicuramente visto il prezzo molto contenuto rispetto agli auricolari di apple o quelli di huawei considera che 60 euro di un terzo del prezzo degli auricolari di apple e un terzo del prezzo degli auricolari di huawei quindi con un terzo ovvero 100 euro in meno circa ti porti a casa degli auricolari di buona qualità che puoi utilizzare per ascoltare in modo fedele la tua musica ovunque ti trovi quindi ho un prodotto di buona qualità prezzo eccezionale che dire di più non ti resta che acquistarli